Nove giorni fa ci eravamo lasciati con la notizia delle dimissioni di Giancarlo Fichera dalla guida dell'Atletico Fiumefreddo, con il DS Salvo Leonardo e lo stesso allenatore comunque molto dispiaciuti del divorzio. Da questa settimana la squadra fiumefreddese ha un nuovo allenatore, Salvo Pennisi. Si tratta di un usato garantito, con Mr. Pennisi, fautore 12 mesi fa della grande cavalcata che ha portato alla promozione, in tutti i sensi, l'Atletico Fiumefreddo. Pennisi torna quindi in carica dopo la gestione fichera, quando al fiumefreddo ormai i giochi sono compromessi. Una scelta quindi che farebbe pensare ad una soluzione mediamente interna, cioè con qualcuno che già conosca l'ambiente, per poi ripensarci con relativa obiettività in estate. Martedì sera Pennisi ha intanto diretto il suo nuovo primo allenamento, in vista del nuovo esordio in panchina, che avverrà sabato prossimo sul campo del Gescal.